Mi serve un elicottero per Gotham. Chiamale l'eliporto. Un elicottero? Al massimo una bicicletta. Vuoi seguire una storia? Va alla nave. Superman sarà già lì, probabilmente. Perry, non è per una storia. Jenny, dalle un elicottero per Gotham e lascia stare all'eliporto. Fallo arrivare sul tetto. Sul tetto, Lois! Dove andiamo? Là! Bene. Eccomi. Bruce, ti prego. Ho sbagliato. Adesso devi ascoltarmi. Lex vuole che... Tu non puoi... Non puoi capire. Non c'è tempo. Sì che capisco. ... ... Ah! No, no, no. Sta giù! Se l'avessi voluto, saresti già morto. Respira. Questa è paura. Non sei coraggioso. Gli uomini lo sono. 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 Gli uomini lo sono.